buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale oggi video tutorial realizzeremo insieme il gemello di questo orecchino è un orecchino molto semplice da realizzare e con materiali facilmente reperibili ossia le gem duo e le super duo iniziamo subito vi faccio l'elenco dei materiali necessari per realizzare l'orecchino avrete bisogno di 36 gem duo avrete bisogno di e 24 super duo avrete bisogno poi di 12 mezzi cristalli da 4 mm e 12 bicono da 4 mm in realtà se avete tutti i mezzi cristalli da 4 mm sarebbe meglio io non li avevo abbastanza e quindi ho usato anche il bicono avrete poi bisogno delle rocaille miyuki 11 0 e 15 0 che in video si vedono a malapena ago e filo da tessitura io come filo uso il miyuki e stavolta l'ho scelto dorato il mio ago è un john james da 12 eccolo qui iniziamo subito il nostro lavoro allora per iniziare dovrete mettere sul lago 6 super duo alternate a 6 11 0 chiudere a cerchio e bloccare con un nodino eventualmente passate una seconda volta nel foro delle super duo quindi io sono arrivata a 5 metto l'ultima l'ultima 11 0 chiudo a cerchio e blocco con un nodino lo faccio fuori campo ecco come si presenta il lavoro adesso passate nella prima 11 0 e nel foro basso della prima super duo che avete inserito tirate bene il filo così da far assestare il lavoro e passate nel foro alto della super duo stessa aggiungete una 11 0 e passate nel foro alto della super duo seguente quindi una 11 0 e passate nel foro della prossima ripetete questi passaggi per tutto il giro così formeremo una sorta di anellino che ci permetterà di lavorare poi l'orecchino dicevo tirate bene il filo mentre lavorate così da far avvicinare le super duo e formare un anellino vedete ecco adesso inserite le ultime tre poi mostro come si presenta il lavoro ecco qui come si presenta il vostro lavoro a giro ultimato quindi dopo aver ripassato nelle perline portatevi ad uscire da una 11 0 a questo punto mettete sul filo una 11 0 un mezzo cristallo da 4 mm e una 11 0 e passate nel nella 11 0 dopo la super duo tirate bene il filo il filo ed ecco che posizioneremo così il nostro primo mezzo cristallo questa parte andrà dietro ovviamente quindi rifacciamo di nuovo una 11 0 un mezzo cristallo da 4 mm una 11 0 e passate nella 11 0 che si trova dietro sul retro del lavoro ripetete i passaggi per il resto del giro ecco questo aggiungendo l'ultimo gruppo di perline e dovete passare in questa 11 0 più in basso e nelle perline appena aggiunte quindi nella 11 nel mezzo cristallo e nel mezzo cristallo ecco qui in questo modo vi dovrete portare ad uscire dal primo mezzo cristallo inserito adesso mettete sul lago una 15 0 una super duo una 15 0 e passate nel foro del prossimo mezzo cristallo tirate ed ecco come si presenta il lavoro diciamo la scelta dei colori è stata un po azzardata che in video non è che vengono molto molto bene ecco qui passate nel prossimo e ripetete per il resto del giro ecco come si presenta il vostro lavoro a giro ultimato adesso passate nella prima 15 0 e nel foro basso della prima super duo inserita mettete sul lago una 11 0 e due jam duo e una 11 0 e passate nel foro basso della prossima super duo così tirate ed ecco qui come si presenta il vostro lavoro ripetete i passaggi ripetiamoli insieme perché sono certa che non ha messo bene a fuoco quindi una 11 0 2 jam duo piccolo consiglio controllate le jam duo prima di iniziare il lavoro e poi passate nel foro basso della super duo e tirate dicevo controllate le super le jam duo perché potrebbero avere qualche forellino tappato ecco qua ripetete i passaggi per il resto del giro ecco qui come si presenta il vostro lavoro a giro ultimato come notate le vostre super duo tendono andare in avanti non vi preoccupate è normale e adesso le utilizzeremo per fare il decoro frontale come vi dicevo adesso iniziamo il decoro che si trova nella parte frontale quindi vi trovate ad uscire dal foro diciamo che si trova dietro la super duo e adesso invertite il giro passando nel foro libero della super duo stessa tirate bene il filo questo modo e mettete sul lago 3 11 0 aspettate che io l'ho qua vicino eccole qui 3 11 0 e passate in questa 11 0 nella super duo e nella 11 0 seguente quindi nella prima tirate bene il filo ecco qui poi passate nella super duo e nella 11 0 che si trova dopo così ecco qui ecco qui mettete nuovamente 3 11 0 e passate nel foro alto nel foro della super duo nel foro libero della super duo tirate il filo ecco qui tirate bene il filo mettete ancora 2 11 0 vediamo se riesca a mettere a fuoco mettete 2 11 0 sul lago e passate poi nella 11 0 che avete inserito in precedenza e nella 11 0 del giro di base ovviamente dal verso opposto a quello iniziale tirate bene il filo ed ecco che si forma la nostra punta adesso passate nuovamente nella super duo e nella 11 0 seguente e ripetete i passaggi che vi ho descritto quindi mettete di nuovo 3 11 0 e passate nel foro libero della super duo tirate il filo mettete ne altre due passate nella prima 11 0 inserita e nella 11 0 del giro di base e tirate sempre bene il filo ecco qui e passate in questa 11 0 e nelle perline seguenti ripetete questi passaggi per tutto il giro ecco qui dovrete aggiungere adesso le ultime due perline quindi portatevi ad uscire dalla 11 0 del giro di base cioè quella che si trova di fronte passate poi nella prima 11 0 che avete inserito in precedenza aspettate che non si vede ecco qui e mettete due perline e passate nel foro della super duo che avete di fronte questo qui quindi ecco qui adesso tirate il filo ed ecco come si presenta il vostro lavoro ovviamente il lavoro non è finito questo lavoro è la parte più diciamo più brutta da fare però è anche quella che ci permette di dare stabilità all'orecchino adesso passate nuovamente nel foro che si trova sul retro della super duo nella 11 0 nella gem duo quindi vi dicevo passate nella 11 0 nel foro basso della prima gem duo e passate nel foro alto della gem duo stessa tirate il filo così da invertire il giro adesso dovremo mettere i nostri bicono o se preferite i vostri mezzi cristalli li avrei preferiti per via del colore quindi mettete una 11 0 un bicono una 11 0 una 15 0 e passate nel foro della super duo così tirate bene il filo attenti che non vada sulla super duo sulla gem duo scusate adesso mettete nuovamente una 15 0 una 11 0 e passate nel bicono e tirate il filo mettete una 15 0 mettete un'altra 11 0 e passate nel foro alto della prossima gem duo della prima così avrete fatto un'altra parte del decoro adesso dovremo mettere la gem duo tra le gem 2 appunto quindi prendete una gem 2 tirate bene il filo mettete una 15 0 3 11 0 e una 15 0 quindi una 11 una 15 3 11 una 15 e passate nel foro della super duo della gem duo avete appena inserito e nel foro alto della prossima gem duo tirate nuovamente il lavoro il filo ed ecco come si presenta il vostro lavoro ecco qui ecco qui adesso ci troviamo ad uscire dal foro alto della gem duo ripetete i passaggi fatti in precedenza quindi mettete sul filo una 11 0 un bicono una 11 0 e una 15 0 e passate nel foro frontale della prima super duo della super duo della prima tirate e mettete poi una 15 0 una 11 0 salite nel bicono tirate il filo mettete un'altra 11 0 e passate nel prossimo foro alto nel foro alto della prossima gem duo nel foro alto della prossima gem duo e tirate mettete poi la gem duo in alto dicevo mettete una gem duo poi una 15 0 3 11 0 e una 15 0 e passate nel foro della gem duo e nel foro alto della gem duo seguente così da decorare anche quest'altra punta ripetete i passaggi che vi ho descritto per il resto del giro ecco come si presenta il vostro lavoro a giro ultimato come noterete il vostro lavoro non è ancora ben stabile quindi tirate bene il filo e portatevi ad uscire dalla prima 11 0 aggiungete una 11 0 e passate nella 11 0 seguente nel foro della gem duo nel foro alto della gem duo nel foro della gem duo e nelle perline che si trovano sopra adesso su una delle punte fate una solina mettendo 4 11 0 portatevi nella perlina centrale mettete 4 11 0 e fate un anellino vi dicevo passate nuovamente nella 11 0 formerete così un anellino passate nuovamente tra le perline un paio di volte anche tre volendo così da far formare bene l'anellino e tenerlo ben saldo e continuate poi il lavoro a decorare il vostro lavoro quindi ecco adesso passate nuovamente nella perline si è formata la nostra solina passate nuovamente in queste perline e portatevi ad uscire dalla 11 aggiungete una 11 0 e ripetete i passaggi descritti per il resto del giro ovviamente la solina va fatta solamente su una delle punte sulle altre no quindi ripetete tutti i passaggi e vi mostro il lavoro a fine giro ecco qua il vostro lavoro è terminato adesso disperdete il filo nel lavoro se volete passate nuovamente nelle perline più esterne e tagliate quello in eccesso nella solina in alto aggiungete la monachella o il perno che avete scelto io metterò le monachelle come al solito per oggi vi ho detto tutto ci tengo a ringraziare Michela che mi ha dato l'input per realizzare questi orecchini per questo gli orecchini hanno già un nome si chiameranno orecchini milla detto questo vi saluto e vi do appuntamento a presto con un nuovo video buona giornata a tutti e vi do appuntamento a presto con un nuovo video e vi do appuntamento a presto con un nuovo video